Salve a tutti signore e signori, il vostro strano amico Andrea Beneventi qui per fare una reaction ai miei primissimi gameplay su Inazuma Eleven SD. Sappiamo che Inazuma Eleven Victory Road è alle porte, quindi nel mentre che aspettiamo perché non fare una reaction ai bellissimi momenti che ci regalo questo gioco. Per chi non lo sapesse Inazuma Eleven SD è un gacha game, però che a livello di funzionalità segue la stessa linea d'onda di giochi per esempio Dragon Ball Z, Dokkan Battle, Dragon Ball Legends e via dicendo. Quindi tu completi un evento, il gioco ti premierà con dei gettoni che tu potrai utilizzare per pullare. In questo caso su Inazuma Eleven SD andavamo alla ricerca del giocatore più forte o del giocatore più raro. Purtroppo a distanza di neanche un anno dalla sua data di uscita è stato chiuso. Non mi ricordo che cosa portò Level 5 a prendere questa decisione, però non fa niente, direi di passare subito alla reaction visto che sono 5, anzi no, 6 video, ma vi farò vedere soltanto i momenti più salienti di questa serie. I video in questione sono privati, questo video lo registrai con il vecchio telefono e come potete vedere ci sta mettendo un'eternità solo per caricare la prima partita. Ok, quindi noi abbiamo i nostri tre protagonisti, Sonny, Mark e Arion, che ci stanno spiegando le funzionalità di questo gioco. Presumo, anche perché, ripeto, non so il giapponese. Calcio d'inizio signori. Allora, la squadra avversaria è composta da Sangook in porta, poi in difesa abbiamo un Jack e al centrocampo un JP e in attacco un Todd e un Sam. Formazione abbastanza strana, però alla fine è soltanto una partita di tutorial. Invece noi abbiamo Mark in porta, Cliff in difesa, oddio, però non capisco se... Ah no, ok, quel D va a significare il rango. Quindi noi abbiamo Cliff in difesa, Arion a centrocampo e in attacco abbiamo Sonny e Kevin. Cliccavo alla cieca, eh, perché non sapevo che cosa dovevo fare. Però almeno a Todd io ho inflitto un bel po' di danni. Ed ecco la mia prima tecnica in assoluto in tutto il gioco, il giro di vento, con un'animazione abbastanza discutibile. Giro di vento o McQuind se seguite l'anime in giapponese. Dragon Crash con 74 di valore. Vedete che più o meno il gameplay funziona allo stesso modo dei giochi per DS e 3DS. Alla fine è tutta una questione di valori e quanto il tuo elemento influisce su quello dell'avversario. Kevin dovrebbe essere albero. Sangook non mi ricordo se è montagna o fuoco. No, è fuoco. Quindi vincerà lui sicuramente. È infatti 81 contro 49. Però adesso arriva la parte più bastarda di questo gioco, la ruota. Ok che adesso noi abbiamo 26 di percentuale, quindi perderò sicuramente. Ma dai, ma per un pixel non ho preso il giallo. Molto spesso mi capitava che anche se io prendevo, sparo un numero a caso, 86 di percentuale, c'era sempre quella piccola possibilità di prendere il buco vuoto nel mezzo. E non ha senso, cioè, se io già parto che ho un valore superiore all'avversario, dovrei vincere lo scontro a prescindere. Cioè, perché devo basarmi sempre solo sulla fortuna? Già avevo fortuna 0 nel mentre che pullavo, figuriamoci durante il gameplay. Vabbè, qui la paro easy. Per che cazzo, 90? Ok, spero che bene o male voi le meccaniche le abbiate capite. Adesso passiamo al mio primo pull. E l'evento che io scelsi era appunto quello di Hitmoor. Che tanto era l'unico che costava 0. Prestate attenzione a questa animazione. Avete visto? Il pallone era normale. Questo significa che ho ottenuto soltanto miniature di merda. Infatti, se invece appariva un tornado di fuoco, avevo assicurata una miniatura rarissima. O comunque, non rara, però una miniatura abbastanza forte. Ragazzi, io volevo a tutti i costi Sean Frost S. Anche perché aveva... Oddio, come si chiamava in giapponese? Mi ricordo soltanto l'adattamento in italiano. Vabbè, comunque aveva collaborazione gelida che tu puoi fare con chiunque. Ovviamente, come in qualsiasi altro gioco dove si pulla, Gli Inazuma Coin, volendo, li puoi anche guadagnare attraverso i soldi. Solo che non è che tu dici Ah, ok, io pago per gli Inazuma Coin E quindi, da adesso in poi, avrò soltanto miniature rare garantite. No, ci sarà comunque la possibilità di avere miniature di merda. Cosa che è abbastanza scam. E se notate, a distanza di 3-4 episodi, il counter dell'Inazuma Coin è rimasto a zero. Questo vuol dire che di eventi ne ho fatti zero. Mi sono basato soltanto sulle partite principali. E vabbè, capita. Ragazzi, Inazuma Eleven SD. Non è successo niente di particolare. Eppure, perché io ho in mente me che pullo cose senza senso? Non lo so. Magari sono semplicemente pull che io ho fatto nel privato? Posso ipotizzare questa cosa? Comunque, fatemi sapere sotto nei commenti, Inazuma Eleven SD, come vi è sembrato? E se vi fa piacere vedere altri video di questo genere dove io vado a reagire alcuni miei vecchi video o alcuni miei video privati che nessuno conosce. Come al solito, lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete il video e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!